Senatore, allora lei oggi ha detto che il pericolo maggiore sono i nì, cioè non prendere delle decisioni. Ha sentito le richieste anche di Alice in questo contesto. Lei che sì e che no, dice alle proposte di Alice per il mondo dei trasporti e della logistica. Un sì al totale taglio della burocrazia, azzeramento del codice degli appalti, è un paese che lavora gru, cantieri, ponti, porti, aeroporti, strade, autostrade, ferrovie. La gronda di Genova, la pedemontana Veneta, la dorsala adriatica, la tirreno brennero, il ponte sullo stretto, perché significa lavoro, viaggiare meglio e spendere di meno. Temo che il governo sia ostaggio dei no, dei 5 Stelle e della CGL, quindi questa sarebbe una riforma a costo zero, il modello Genova, per intenderci. Genova si è ricostruito un ponte senza un giorno di ritardo, senza una tangente, senza un morto, derogando da tutta la burocrazia. Un'Italia senza burocrazia sarebbe un'Italia più veloce, più ricca. Autostrade è un tema, diciamo, quanto mai attuale, ma esiste anche un tema autostrade del mare, siamo sempre in termini di concessioni, ovvero concessioni prorogate. La sua posizione? Certezza, certezza. Poi ci sono alcune autorità portuali che invece di semplificare la vita agli operatori, complicano la vita agli operatori. Occorre concorrenza leale, non ci possono essere aiuti da parte dello Stato a qualcuno, a scapito di altri. E poi, ripeto, io penso a un paese veloce che si fida delle imprese. Qualcun altro pensa a un paese assistito con una decrescita felice, ma chi non lavora non può essere felice. È contrario all'autoproduzione, senatore? Io sono a favore della concorrenza leale e del vantaggio per le imprese e per gli utenti. Quindi costringere un imprenditore a dover adottare un modello produttivo che magari costa di più è uno svantaggio per le imprese italiane e poi per chi va a fare la spesa. Perché se mi costa di più il trasporto, mi costa di più la frutta che vado a comprare al supermercato. Quindi anche qua è una logica sindacalista e sindacalizzata, ma l'Italia ha bisogno di velocità, non di burocrazia.